Bene ragazzi, la puntata di oggi penso di volerla fare su un aspetto un po' differente della rubrica cioè invece di andare a parlare semplicemente delle notizie del panorama Pauper andiamo a fare praticamente uno speciale o un approfondimento su alcuni pazzi specifici la puntata di oggi si tratta di Fatine Allora, come approcciarsi a Fate? Come combattere Fate? Più che come giocarlo? Alla fine della fiera se avete un po' di disinvestichezza sul formato e se avete già comunque anche la possibilità di andare a guardarvi le registrazioni, i video, gli streaming di altri giocatori se non solo le mie, potete tranquillamente vedere come viene giocato un mazzo, il gameplay e come approcciarlo però come combatterlo magari può essere anche un qualcosa di un po' differente perché penso che dipenda anche da quali possono essere i mazzi che possono settarsi meglio contro Fate Fatine è sempre stato uno dei mazzi più giocati in Pauper e probabilmente è stato il tier 1 che ha una vita più longeva nel formato e che ha pure visto anche il maggior numero di ban andiamo a vedere ad esempio la banlist Pauper se non ricordo male sono quasi una decina di carte che sono bannate da Fatine ed è uno dei numeri più alti escludiamo Bonder's Ornament che si giocava inside in monocopia di Fate per il semplice fatto che non penso che sia una carta veramente specifica di Fate però abbiamo comunque Cloud of Ferris che è la prima carta Days, Fall from Favor anche Gitaxian Probe può essere considerata una carta bannata da Fate perché si giocava i mazzi di tempo e si è visto tutto sommato un po' di gioco dentro questi mazzi però effettivamente Gitaxian Probe è più una carta da Burn Izzet Blitz e Infect quindi siamo a... scordiamo quindi sia Bonder's Ornament che Honda che sono molto di parte per Fate abbiamo Cloud of Ferris 1, Days 2, Fall from Favor 3 Gash 4, Mystic Sanctuary 5, Treasure Cruise 6 abbiamo 6 carte che sono bannate da Fate non sono poche comunque Fate rimane un tier 1 non dico indiscusso perché ci sono degli archetipi nel metagame attuale che stanno bene da Fate però comunque Fate si può settare e se la puoi giocare con questi le tre versioni che esistono di Fate sono Monoblue, Izzet ed Ymir Monoblue è la versione che esiste da più tempo e di conseguenza è la base su cui si sono sviluppate le altre due versioni la seconda versione che è nata è stata Izzet Ferris dove semplicemente in realtà la versione di Izzet Ferris che si gioca adesso non è nemmeno la versione originale di Izzet Fate perché ce n'era una che invece di giocare Scred giocava una mana base completamente diversa addirittura con le Bounceland e giocava anche Seagate Oracle e Muldrifter quando ancora Auguri di Bolas non era stato stampato nel formato e quello era considerato più un mid-range o un control rispetto ad essere un mazzo tempo nonostante effettivamente molte persone non considerano nemmeno le versioni di Imir e Izzet dei mazzi tempo ma considerano tempo soltanto monoblufate personalmente io li considero tutti e tre degli agro control e semplicemente li guardo come se praticamente fossero degli sviluppi tra virgolette paralleli e differenti sempre attorno allo stesso concetto tornando a monobluf la base rimaneva quella con i Delver però ultimamente i Delver sono stati droppati per giocare al nuovo Ninja questa è una lista anche vecchia quindi andiamo a vedere un 5-0 più recente e vabbè questa non è una lista staple se non sbaglio perché che qua giocano 4 off one mind al posto di 8 cantrip però è un buon esempio per far vedere come si stia sviluppando monoblufate per essere praticamente un mazzo che ha un approccio molto più aggressivo soprattutto rispetto alle origini e va full sul vantaggio generato da Ninja che sia race dato che praticamente permettono di fare più danno rispetto alle fate ma anche carta advantage vera e propria le carte che vengono ancora giocate ad esempio sono Mutagenicroth Snap ovviamente i Counter e così via Mutagenicroth è una carta un po' bizzarra dal mio punto di vista perché non è una carta che vedo come sensata in questo tipo di mazzo ma in realtà è presente da diversi anni perché appunto cerca di funzionare come rimozione sui paranti dell'avversario ovviamente o lo utilizziamo come Counter per salvarci i pezzi oppure quando attacchiamo possiamo il avversario ci blocca e possiamo salvarci il pezzo pompandolo parlando 0-1 che non è per niente male in realtà questo tipo di mazzo qui ha grossi difetti rispetto alle altre due liste il difetto principale è che ovviamente gestisce peggio i mazzi creature based a meno che non siano delle strategie molto particolari ad esempio i mazzi come, che so, i combo o i mazzi più all-in come Aura o Mono White Heroic soffrono di più Mono Blue piuttosto che magari Izzet o Fate almeno in certe situazioni questo perché Mono Blue Fate ha il grosso pregio di poter mettere più pressione sul board e più velocemente perché gioca carte come Spear Golem che è un grosso body per questo mazzo e in più si può permettere di giocare 8 ninja queste versioni attuali comunque è un mazzo che soffre di più i predatori naturali di Fate in generale quindi può essere una buona scelta se vi piace un approccio più aggressivo di Fate o però generalmente sappiate che Mono Blue tende a, per come è strutturato il Pauper al giorno d'oggi tende ad essere più forte rispetto agli altri mazzi Fate solamente quando il formato è in uno brutto non è in uno stato sano Izzet Fate, dicevamo, praticamente la scela attuale nasce grazie alla stampa di Auguri di Bolas e all'aggiunta di Scred le prime liste di Fate con Scred già esistevano prima della stampa di Auguri di Bolas però giocavano tipo una o due copie di Seagate Oracle con l'aggiunta di Auguri di Bolas si è potuti andare sul full set di Auguri di Bolas che in realtà da praticamente Commander Legends 2 ti andrà ad essere sempre più spesso assoltando un 3x e si gioca praticamente questa shell qui che tende a grindare parecchio addirittura a volte si giocano pure sia Frantic Inventory che Crimson Fleet Commodore e diciamo che la cosa molto pepuliale rispetto all'inizio è il fatto che non si giochi più Swirling Sandstorm Swirling Sandstorm assieme ad Electricry e le rimozioni ovviamente era uno dei motivi per giocare Blu Rosso adesso non si gioca più perché si preferisce giocare Fiery Caronade e perché magari Sandstorm non è neanche più troppo utile nel meta attuale i mazzi Beatdown fondamentalmente sono i mazzi Fate al momento oppure i mazzi come Boros quindi Cannonata tende ad essere più che sufficiente rispetto a Swirling Sandstorm poi c'è Dimir Fieryx che è praticamente l'unitima versione considerate che fin tanto che c'era Izzed Fieryx come mazzo Fate principale c'era qualcuno che giocava Dimir Fate però erano tutte quante liste un po' frufru se così possiamo considerare non erano settate e non erano buildate con dei criteri che possiamo definire come ottimali e soprattutto Snuff Out è una carta che prima di inserirla dentro Dimir Delver non esisteva nel formato praticamente è sempre stata considerata una carta tipo da bono nero praticamente si giocava piuttosto Vendetta addirittura in alcune liste di... no non si giocava Vendetta si giocava una rimozione che adesso non mi ricordo come si chiami però a costo 1 uccideva una creatura non nera se la costituzione era inferiore al numero di carte che aveva il cimitero e si giocava tipo in Dimir Delver ma le prime liste con i 7 per di Toscowar quindi un formato abbastanza diverso forse e la cosa positiva di Dimir Fate è che per quanto perda per quanto perda gli Pyroblast e gli Scred fondamentalmente Dimir Fate è nato perché si poteva inserire tranquillamente dentro Tornoft, Black Rose al posto di Fultron Favor Gorma Gangler è un altro pregio di Dimir Fate perché praticamente funziona più o meno come Spergolem mette pressione, blocca e costa molto poco e poi tutto il resto fondamentalmente della Shelly rimane abbastanza invariato al momento né Dimir Fate né Z Fate sono ancora riusciti a fare un risultato o comunque non sono ancora riusciti a fare dei risultati con costanza con il nuovo Ninja per il semplice fatto che è più difficile inquadrare il Moon Circuit Hacker dentro le liste B-Color le liste B-Color sono molto più statiche come Shell perché è difficile decidere cosa tagliare bisognerebbe decidere di tagliare delle carte come Tornoft e Black Rose o Auguri di Bolas addirittura ad esempio se avete presente avevo fatto uno streaming di Dimir Fate con otto fatine al posto degli Auguri di Bolas e quindi bisogna un po' capire cosa tagliare da Dimir Fate se tipo rimuovere delle rimozioni, dell'interazione, dei cantrip o chissà cos'altro o addirittura i Monarchi per andare a giocare più Ninja personalmente sono dell'idea che si potrebbero giocare tipo 5, 6 Ninja tagliando diverse copie di Ninja da notte fonda perché tanto la cosa forte del Ninja nuovo è il costo di mana convertito se ci basiamo sul fatto che il nuovo Ninja cioè che tutti Ninja quando entrano in campo durano soltanto un turno almeno in queste versioni B-Color il nuovo Ninja è praticamente migliore del Ninja vecchio in più per Elite Game si ha Tornoft e Black Rose come card advantage non penso che ci siano troppe spiegazioni sul perché preferire una versione o l'altra in realtà possiamo semplicemente dire che il nero tende a star meglio da Affinity o almeno ci stava meglio da Affinity perché ha rimozioni migliori e a Gurmagangler per mettere più pressione non deve soffrire Hydroblast su Monarchi o sulle rimozioni e sta meglio anche da Boros Boros, Boros Buglia e Boros Metalcraft sono sempre stati dei predatori naturali di Fate anche carte come ad esempio Prismatic Strengths o Battles che sono difficili da gestire soprattutto per IZ Fate e Monoblue Fate e il nero fornisce carte come Echo in Decay e Suffocating Fumes Suffocating Fumes poi è tipo migliore rispetto a Electra che è di sotto molti aspetti sia perché non può essere neutralizzata da Strengths ma anche perché all'occorrenza si può ciclare e un altro tipo di mazzo che sta bene da Fate è Horts of Midrange questo è Horts of Control e ci sta malissimo da Fate parere personale almeno 3, la versione Midrange che è la versione più vecchia e fondamentalmente questo mazzo per un largo periodo di tempo si giocava appunto proprio dalle Fate dovrebbe esserci messa bene questo perché comunque ha il Card Advantage di Core Skyfisher più il lato, diciamo i pali di Guardia del Patto delle Gilde e Pestilence che permettono praticamente di approcciare Fate in due maniere parallele per cui Fate è costretto a neutralizzare sia le Skyfisher cioè sia il Card Advantage che i pali Guardiano più Peste la versione Control ha comunque gli stessi chiodi però si basa molto più sul fatto che l'avversario si inchiodi da solo e che tu abbia la possibilità di incastrare delle carte una di fila all'altra diversi giocatori di Fate magari dicono che si stia male da Pestilence o Control personalmente tutte quelle volte che giocando Fate ho trovato Peste e Control ho sempre vinto in una maniera dove non c'era neanche una partita pur non avendo magari del late specifico il fatto è che poi comunque che di Mir Fate vi fornisce anche carte come Cenar Sedict e Cenar Sedict va a predare carte come Bogols o appunto Guardiano del Patto delle Gilde quindi di base I Z Fate è più settato contro il Mirror o comunque contro i mazzi Blue-Based mentre di Mir Fate è più settato contro tutto il resto del meta e soprattutto quando il meta si sviluppa attorno a creature dal body grosso se volete giocare di Mir Fate i matchup che volete predare scusate se volete giocare un mazzo Fate solitamente i mazzi che volete predare sono Born i Combo e i Control Deck Control Deck nel formato adesso c'è solo G-Sky e Ephemerate Tron è poco giocato però comunque il matchup Fate contro Control Control a base Ephemerate tendeva ad essere abbastanza giocato adesso che c'è il nuovo Ninja sono abbastanza curioso della cosa non è detto che sia così più combattuto perché effettivamente 8 Ninja snowballano tanto un altro elemento che però snowballa abbastanza contro i Control Deck quando si gioca Fate è il Monarca invece i mazzi che predano molto bene Fate tendono ad essere i mazzi come Stompi Affinity che ormai Affinity si sta spostando molto più sul lato Control del mazzo piuttosto che sul lato aggro e una volta tipo l'asproccio forte di Affinity contro Fate era appunto l'approccio aggro perché carte come i Reinforcer, Carapace Forger, i Gear Seeker, Serpent mettevano molta pressione e costringevano Fate a giocare Dimir o a giocare carte come Sweeney Sandstorm adesso è tranquillamente Affinity il mazzo che gioca da Control nel matchup e può vincere la di Munizioni Blood Fountain e i Card Advantage semplicemente nonostante giochi molto meno interazione main deck Munizioni solitamente in G1 tendono ad essere quasi sempre game a meno che la versione non riesca ad avere tipo delle Curma Gangler come dicevamo mazzi come Stompi ci stanno messi notevolmente bene Bogos anche ci sta abbastanza bene anche Mono White Heroic e i Boros Deck e ovviamente anche Elf in realtà può avere delle partite molto agevoli contro Fate nonostante le viste Bicolor possono avere delle ottime risposte come Suffocating Fumes e anche Electricary e Fieri Cannonade se volete giocare Born ho notato che tipo Monone Black Born e Ractos Madness migliorano notevolmente il matchup contro Fate rispetto a Born però non ho abbastanza esperienza da dire se effettivamente questi due mazzi Mononero, Born e Ractos Madness siano effettivamente messi bene da Fate certo è che le risposte come Hydro Blast e ovviamente Disp tendono ad essere meno performanti e potendo giocare il nero potete giocare una carta molto forte in forma di Creep Rats che può essere sia una Massa Rainbow che è una Born Spells Famiglie l'altro mazzo contro del formato e tendenzialmente sta benissimo in late game e malissimo in early game quindi è combattuta tempo addietro prima della stampa di Cleansing Wildfire i mazzi come Jound Midrange stavano bene da Fate perché semplicemente hitavano l'endrop ogni turno potevano grindare con carte come Bounders Ornament oppure giocare a un sacco di creature che facevano due per uno come Boarding Parties Roof Packmate e Annoyed Addis con la stampa di Wildfire invece il matchup sembra essere più a favore di Fate il semplice fatto che Fate è un early game migliore e se riesce a neutralizzare il mana ramp iniziale soprattutto quindi in Wildfire teoricamente queste liste di Jound non riescono a arrivare in late game e perdono soprattutto se c'è un monarca nel frattempo poi sinceramente non vedo tanti altri mazzi che ci sono nel formato attuale di cui non abbiamo parlato quindi alla fine della fiera Fate starebbe mali e dà i mazzi agro tipo anche Red Queen's in realtà e se la cava praticamente con tutti Fate è sempre stato un mazzo forte perché fondamentalmente ha tutte le carte forti del blu può giocare comunque una buona parte e comunque la combinazione sprite più ninja monarca più chip spells chip counter spell e rimozioni a costo agile permette di affrontare diversi matchup in maniere tutto sommato complementari penso che dovremmo aspettare ancora un po' di tempo prima di vedere quali saranno gli sviluppi di Fate per il semplice fatto che Moon Circuit Hacker è una carta che ci deve ancora dobbiamo ancora capire come giocarla nelle versioni non monoblu di Fate considerate che quando viene fuori una nuova carta per Fate monoblu è proprio la versione che appunto riesce a implementarla subito per il semplice fatto che è un mazzo Fate meno performante dal punto di vista di competitività nel meta nel meta attuale però ovviamente è più facile perché è più facile da adattare la nuova carta perché appunto è più facile tagliare carte carte brutte beh detto questo penso che la prossima la prossima approfondimento andremo a guardare o Boros Metalcraft o meglio le versioni di Boros perché è più penso che sia più corretto e più amplio andare a guardare tutte le versioni di Boros altrimenti potremmo andare a guardare Affinity oppure un qualsiasi mazzo spicy che potrebbe avere un picco nella prossima settimana detto ciò ragazzi ci aggiorniamo alla prossima settimana in cui pubblicherò un paio di replay del canale di Twitch e vediamo anche su Twitch che mazzi giocare perché ho avuto un po' un'illuminazione nel giocare Storm in Lega e penso che porterò Storm almeno per una o due volte su Twitch ciao ragazzi a presto